Volevo dire che il 31 dicembre, quindi per Capodanno, ci sarà la serata Toscana Maremma Maiala Show al ristorante Pinco di Borda di Guarrata, in provincia di Fristoia. Ci sto a due metri, non lo so neanche in due stossi. E che volevo dire? Solo su prenotazione lo spettacolo non si avvierà ai tocco di notte, dopo mezzanotte si festeggia lo spumante di Bagarello, mi raccomando, e poi dopo si balla, si fa casino e ai tocco si avvia con lo show, con lo spettacolo, io insieme a Daniele Angeli, dei Senza Fissa di Mora, con compagnia teatrale di teatro, e niente, si starà un'ora e mezzo insieme, insieme a vedere i nostri videodoppiaggi, ci saranno le scenette dai vivo, tutto nuovo, tutto uno spettacolo nuovo, perché ripeto, tutte le persone che sono già state a vedere uno show di Toscana Maremma Maiala, devono sapere che ogni show gli è una cosa a sé, gli è una cosa a parte, gli è sempre differente, non è che tu torni e tu dici, ma sono stato l'altra volta a vederlo, allora se ritorno gli è il solito. No, perché io siccome cancello tutto, poi li fanno tutto dal capo, ci saranno una serie di video inediti, perché i doppiaggi che verranno trasmessi diciamo in diretta quella sera lì, saranno doppiaggi chiaramente inediti, che non si trovano su Facebook, che non si trovi su internet, perché sono apposta per chi viene a vedere le serate, capito, è una cosa di genere, è una cosa diciamo inedita, con noi ci sarà l'immancabile barrista di Baugiano, che sono sempre io, perché chi lo sapesse sono sempre io, barrista di Baugiano verrà, che stavo per dire, che cazzo dico, no, niente, barrista di Baugiano, poi ci sarà lo zingalo Leonardo Di Garciana, sì, lo zingalo da Iolo, Leonardo Di Garciana, un altro personaggio sempre fatto da me, e per chi non lo sapesse sono sempre il personaggio che fu io, insieme sui parco L'Angeli, grandissimo, grandissimo showman, persona di spettacolo, grandissimo, diciamo, come si può dire, una presenza indispensabile per questi show, sicché avete la fortuna di beccare proprio lo show completo, prenotate allo 007 3007, sì 007, cazzo dico, prenotate al 328 007 3916, è il numero di cellulare di ristorante Pinco, e qui ci tengo a dirlo perché si fa una bella serata, sarà una bella serata tutta natalizia, ci sarà un discorso, un discorso a rete, a rete, 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 come si dice, rete, a rete perché c'è una sola televisione, si chiama moglie, è moglie, è singolo, singolare, a rete unificata, o ungificata, meglio ancora, per il discorso di primo dell'anno, e che a noi ce lo farà direttamente l'Olga Bucaioli, in diretta quella sera, farà il suo discorso ai Megaschermo in diretta, sarà un discorso fatto da lei, sentito, perché lei lo sente, questo discorso se lo sente, è un discorso altro, perché lei lo farà a tutti, quando lo sente, presente, e quella sera saranno qui, presenti. Ma ti dici te, ti dici te, non te lo potete, non te lo sai, non te lo potete, non te lo sai, non te lo potete, ci sarà anche il Barista Bociano, Barista Bociano, ma ti dici te, tu dici te, ci sarà anche lui, ci sarà anche lui, poi ci sarà anche Leonardo di Garciana, poi ci sarà anche Leonardo di Garciana, poi ci sarà anche lo zingolo di Yolo, Manage, tutti i personaggi ci sono tutti per la sera. Poi non mancherà anche, diciamo, la parte improvvisazione, l'improvvisazione che non sempre posso fare quando si vanno ai posti, ma il PINCO ci sarà anche quella, l'improvvisazione, sicché è uno spettacolo che può partire, ma non si sa quando finisce, potrebbe finire il giorno dopo all'otto, potrebbe finire la sera, potrebbe finire dopo un'ora, potrebbe finire, non si sa, non si sa, si sa quando si avvia, ma non si sa quando si finisce, e sicché ne è una cosa particolare, bisogna che vi fissate, fai il ristorante, PINCO, oh, va, ce l'ho fatta. Allora, no, stavo dicendo, no, il menù di PINCO, gli è un menù particolare, la sera lì, carne e pesce, una cosa squisita, proprio lui è uno chef, egli proprio, che va a cercare i caffunghi, capito, va a prendere le cose fresche, proprio, se no io non ce l'andavo a fare, io solo un due si mangia bene, sicché, allora, si propone la sera, propongano, conchiglia di insalata di mare, l'insalata di mare, certamente l'hanno presa, l'hanno presa, l'hanno presa a Bacarello, l'insalata in terra, nei cigliò della strada, diciamo, poi ci mettono, diciamo, fischiolini della fermulla, perché non si mangia solamente roba tipica, quarratina, conchiglia di insalata di mare, no, scherzo, la conchiglia di insalata di mare, è favolosa, sentita ragazzi, è squisita, poi fanno, sempre nell'antipasto, questo è compreso nell'antipasto, capito, voulevant, voulevant, di calamari e piselli, calamarino, questi sono calamari, li hanno presi sui Montalbano, li hanno presi di Montanari, allora, prosciutto, e qui, per quanto riguarda l'antipasto di pesce, poi dopo, antipasto, sempre ma di carne, perché c'è quello e quell'altro, come andare a un matrimonio, voglio comandare a un matrimonio, tu schianti, tu devi arrivare a mezzanotte, devi essere pieni, perché in te si mangia povenino, per l'ultimo dell'anno, un va bene, qui si mangia, tanto e soprattutto di qualità, poi si figlierà, allora, prosciutto crudo, buono, peorino toscano, mi raccomando, peorino toscano, che non sia un peorino, di Roma, perché c'è, peorino toscano, riduzione all'arancia, e uno sformatino di patache, con la pancetta, la riduzione all'arancia, gli hai capito, non mi fa spiegare, che gli aggiungo, la riduzione all'arancia, via, con le patache e pancetta, petali, questo, con questo si conclude l'antipasto, l'antipasto, petali, di pasta fresca, alla trabacolana, dice, ma che è la trabacolana? La trabacolana, gli è un piatto, diciamo, gli è un piatto, di viareggio, gli è un piatto viaregginoso, di viareggio, di viareggio, viaregginoso, il pesce fresco, piatto di viareggio, i petali di pasta, questa pasta bella, fatta a petali, insomma, la fanno loro a mano, gli è una cosa particolare, poi viene e spiegherà lui di persona, risottino, molti cereali, fantastico, ho sentito anche quello, perché io sono andato a fare l'assaggio, l'assaggio, come a metri monito, va a fare l'assaggio, molti cereali, con carciofi e porcini, i molti cereali, gli è un risotto, di una squisitezza, di una colina in bocca, allucinante, a carciofi e porcini, non ci leggo, e porcini, poi, andiamo, al calamaro di pinco, con erbette, con erbette su pane tostato, questo è un calamaro proprio preso, preso nell'ombrone, e fatto con le erbette di lungo bisenzio, cotto su pane tostato, bollito, rilessato, ribollito, con l'acqua di bacarello, tartara o tartara, decidete voi, se tartara o tartara, di limousine, dici, ma che gli è la limousine, una macchina, no, la limousine è un taglio di carne, di una razza francese, ma che è allevata, vicino a Poggi Bonzi, ecco, che voglio dire, questa è una cosa importante, su vellutata, di lenticchie, con riduzione, sempre negli agrumi, che spettacolo, che spettacolarità, che spettacolarità, acquolina in bocca, dessert, dessert, uva, ah no, il dessert, uva, in più ai dessert, c'è l'uva, l'uva di buon auspicio, con lo spumante, di bacarello, lo spumante di bacarello, è uno spumante fatto a bacarello, a testa all'ingiù, viene seccato a testa all'ingiù, con il marino, è uno spumantino, viene seccato, con il marino, famoso marino di bacarello, acqua di bacarello, vino di bacarello, no, vino scherzo, un vino bardolese toscano, vino bardolese toscano, squisito, veramente, buono, 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 è di quello che tu lo bevi, e non ti fa l'acidità, non è qui vino di merda, tu lo bevi, poi ti fa l'acidità, tu sbocchi ogni ossa, questo è un vino buono, di quello buono, di quello bardolese, buono, capito? caffè, limoncello, buono, anche questo gli è buono, perché lo fanno loro, e grappa, buona, anche questa gli è buona, per dire che io ce l'ho la grappa, allora, ora io vi spiego un pochino, vedete no? C'è scritto tutto qui, Per dire, allora, in dove è scritto? Allora, eccolo qui, allora, dessert, gli adulti 65 euro a testa, bambini fino a, fino a 4 anni, credo non c'è scritto comunque, fino a 4 anni, 20 euro, e fino a 13 anni, 30 euro, compreso tutto, certamente, dicevi, ma che c'è, di mangiare un po' dopo lo spettacolo, no, c'è tutto insieme, si balla, si ride, si mangia, si scherza, si fa lo spettacolo, si fa, un macello ragazzi, bucaioli, si fa un macello, io v'aspetto, 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 ecco,